Toscana 2050, Mazzèo, anticipare il progresso e governarlo è compito della politica. Carceri, il garante dei detenuti e le commissioni bilancio e cultura in visita a Volterra. Immaginare la Toscana del 2050, pensare insieme ai bisogni delle nuove generazioni, far crescere la Toscana del futuro. La politica deve avere la capacità di anticipare il progresso e governarlo oppure resta indietro. Così il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, ha salutato all'Innovation Center della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze la platea degli intervenuti a uno sguardo per anticipare il futuro. Primo evento di restituzione del progetto promosso dal Consiglio regionale attraverso la revisione della legge 46 del 2015, un progetto proposto dal presidente dell'Assemblea legislativa e sostenuto dall'intero ufficio di presidenza. Sono intervenuti anche il presidente della Toscana, Eugenio Gianni, il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, che ha inviato il saluto con un videomessaggio, il direttore scientifico dell'Asvis, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, Enrico Giovannini, i coordinatori del Comitato Scientifico Toscana 2050, Antonella Mansi e Paolo Dario, la scrittrice Cristina Pozzi. Il presidente del Consiglio regionale ha aperto l'evento con una presenza duplicata dall'ologramma con il quale ha rivolto il proprio saluto in avvio dei lavori. La politica ha la capacità di anticipare il progresso, di saperlo governare oppure resta indietro, allora compito delle istituzioni è proprio questo. Oggi racconteremo la Toscana del 2050 attraverso gli occhi delle bimbe e dei bimbi della nostra regione, attraverso gli occhi dell'intelligenza artificiale, attraverso gli occhi e le parole di Giovannini, che ci racconterà da esperto del settore come la Toscana si sta muovendo. Compito nostro è quello di continuare questo lavoro nei prossimi mesi, di farlo tutti insieme, con l'obiettivo di rendere a fine legislatura disponibile alle cittadine e ai cittadini della Toscana un indirizzo della strada da perseguire, perché la politica ha il compito sempre di anticipare il progresso. La Toscana ha vissuto, come tutte le altre regioni, purtroppo due emergenze terribili. Da un lato la crisi pandemica e dall'altro la crisi legata alla guerra che ha sconvolto le nostre coscienze e che ancora purtroppo è in corso in Ucraina. E quindi sono stati due anni in cui correre dietro all'emergenza non è stato semplice, ma tanto è stato messo in campo, tante sono le iniziative che ha portato avanti la Giunta. Il nostro compito è quello di cercare di velocizzare il più possibile gli atti che arrivano in Consiglio per costruire le condizioni, per offrire sempre di più e sempre meglio una proposta alle cittadine e ai cittadini della nostra regione. Toscana 2050 è un progetto ambizioso che si sviluppa con l'aiuto di un comitato tecnico-scientifico. Si lavora sul concetto del benessere attraverso alcune tematiche principali, il cambiamento climatico, l'acqua, la salute, il lavoro, la cultura, cercando di individuare il maggior sviluppo possibile delle città e del territorio per capire e proiettare in avanti i problemi e i cambiamenti di oggi e farsi trovare pronti domani. Un'idea di futuro che viene declinata da tre prospettive diverse. Il 2050 visto con gli occhi di chi oggi è bambino e nel 2050 sarà adulto. Il 2050 immaginato dall'intelligenza artificiale. Il 2050 visto da chi vive da protagonista al mondo di oggi e studia il futuro. Di riuscire a capire il presente ma soprattutto prevedere il futuro, che è la vera sfida. Perché il futuro accade senza di noi, ma noi siamo anche in grado forse di guidarne almeno alcuni aspetti. Ed è quello il vero ruolo, se vogliamo, della buona politica, ma anche quello che compete alle istituzioni, alle università, alle imprese, a tutti i cittadini, se vogliamo. A quali scelte pensa? Noi abbiamo concentrato l'attività su alcuni tavoli tematici. Oggi ne tratteremo quattro che riguardano il tema della città, il tema della salute, il tema della cultura e il tema del lavoro. Questi sono chiaramente collegati fra loro e che pongono una serie di interrogativi, ma anche grandi opportunità, grandi scelte. Se vogliamo, è un po' quella che si chiama in ingegneria, ma anche nelle industrie, un'analisi SWOT. SWOT vuol dire punti di forza, W vuol dire punti di debolezza, O, opportunità e T, minacce, trezza. E così un po' si lavora per immaginare da dove partiamo e dove soprattutto potremmo andare. Stiamo cercando di immaginare delle traiettorie. È un lavoro che è partito più o meno un anno fa. Durerà ancora un anno. Oggi è un primo medio termine in cui cercheremo, diciamo, di dare alcune suggestioni. Quello che credo sia importante sottolineare sono gli obiettivi di questo nostro lavoro, perché chiaramente tutti noi, credo, desideriamo una Toscana in cui ci possa essere un benessere diffuso e condiviso. E queste sono, diciamo, su questa base noi tracciamo le traiettorie su driver essenziali per la nostra comunità, che sono legate al mondo del lavoro, che sono legate al mondo della salute, ma sono legate chiaramente anche all'ambiente, allo sviluppo dei territori e delle città. Quindi oggi faremo un po' il punto per poi mettere le premesse per un lavoro che spero ci porterà ad avere tutti quanti un'idea un po' più chiara del futuro. Sicuramente nel 2050 ancora, da un punto di vista turistico e attrattivo, la Toscana sarà sempre una regina. Questo è il mio desiderata, ma sono convinto che in realtà la Toscana da qui al 2050 potrà costruire quel livello di modernizzazione infrastrutturale, di accoglienza, di sistemazione del rapporto fra tecnologie e qualità della vita, che sicuramente renderà ancora questa regione un punto di riferimento nel mondo. Io penso che quello che noi dobbiamo costruire in questo percorso è una grande validità sul piano ambientale, rendendo autosufficiente da un punto di vista energetico la nostra regione, con geotermia, solare, con quello che è il contesto delle energie rinnovabili, anche l'idroelettrico, l'eolico e contemporaneamente molto vicina per tenere le aree interne in rapporto diretto con le conurbazioni urbane più intense. Ecco, quindi le reti ferroviarie, tramviarie, di metrotram, stradali, che possano tenere sempre vicina tutta una toscana che poi attraverso la copertura, da un punto di vista della rete, della bull, della rete ultralarga o della wireless, quindi del collegamento radiomobile, possa vedere sempre la possibilità di essere in ogni momento e in ogni luogo, con il valore dell'uomo e quindi con una cultura e un modo di relazionarsi che possa vedere arricchire negli anni la civiltà, il senso e il patrimonio dei valori. Questo è un lavoro importante per verificare quello che può essere una toscana che si rinnova, che però mantiene le proprie tradizioni, capire quello che sarà il mix fra tecnologia e innovazione, che ruolo giocherà l'uomo e il grande estro che comunque i toscani hanno avuto nella storia, capire come la grande eterogeneità, il grande dinamismo, la grande capacità di innovare che hanno avuto i nostri antenati, sia sulle arti, sia sull'agricoltura, sia ovviamente su tutti gli elementi di ingegno che hanno fatto grande la Toscana e l'hanno differenziata nel mondo, come poter rinnovare questa grande capacità dentro un contesto che sta cambiando e che ruolo giocherà anche l'uomo dentro queste relazioni. Quindi dobbiamo anche disegnare una società dove l'uomo sia protagonista, perché lo è sempre stato, fin dall'epoca rinascimentale, fin da tutto quello che ha prodotto, grande innovazione, quindi è un mix di pensiero che proviamo a fare, privo diciamo di una immediatezza e questo è forse il compito più bello che si è dato all'ufficio di presidenza in questi due anni e mezzo, provare a pensare indipendentemente dal presente, cose che potrebbero essere importanti per tutti noi, che magari sono giuste e che magari potrebbero portare anche chi verrà dopo di noi ad assumere funzioni decisionali importanti per mantenere il grande e brasoni che oggi ha la Toscana, non soltanto nel contesto europeo ma mondiale. In visita al carcere di Volterra Proseguono le visite della Commissione Bilancio del Consiglio regionale e del Garante regionale alle carceri della Toscana, Giuseppe Fanfani, per indagare sull'emergenza del sistema penitenziario. Dopo gli istituti di Sollicciano e Massa nella giornata di venerdì 21 aprile è stato il turno del carcere di Volterra, dove nell'occasione si è unita una delegazione della Commissione Istruzione e Cultura. Un giudizio molto positivo è stato espresso dal Garante regionale dei detenuti, quella di oggi è stata una visita costruttiva, partecipata e molto attenta, ha spiegato Fanfani. La direttrice Maria Grazia Giampiccolo ci ha fatto un'illustrazione dettagliata di tutto il sistema carcerario di Volterra e delle opportunità di reinserimento lavorativo presenti nella struttura. Ha spiegato Fanfani parlando in primis delle attività culturali, con in testa il teatro, ma anche di altre discipline più pratiche e non meno importanti, come la scuola di cucina e il reparto Sartoria. La visita è proseguita nel giardino, poi al teatro, dove il regista Armando Punzo ha ripercorso la storia, i contenuti e le attività messe in campo, con la proiezione di un interessante cortometraggio. Ad accogliere la delegazione è anche Cinzia De Felice, direttrice organizzativa e curatrice dei progetti della Compagnia della Fortezza, a cui il Consiglio regionale ha recentemente consegnato il gonfalone d'argento. Un'esperienza molto significativa quella che ho potuto fare come Presidente della prima commissione del Consiglio regionale oggi al carcere di Volterra. Un'esperienza inusuale perché Volterra ci offre una testimonianza della vita detentiva del tutto diversa da quella che si può riscontrare in altri istituti della nostra regione. Qui c'è una concezione del detenuto che vede innanzitutto l'individuo con i propri diritti, con la propria personalità e anche con quel bisogno di rieducazione che è insito anche nella detenzione. È un luogo, il carcere di Volterra, dove si sviluppano moltissime attività collaterali, prima tra tutte quella splendida dell'esperienza teatrale, che è un modo non soltanto per rieducare i detenuti, ma è soprattutto un modo per favorire la cultura anche in questo istituto, in una città che è stata anche la capitale della cultura e che ancora oggi ci dimostra come si possa fare cultura anche in un istituto di pena. Un vero e proprio sollievo anche per chi rappresenta le istituzioni, vivere questa esperienza all'interno di un carcere che ha molto da insegnare a tutto il sistema carcerario italiano. Il carcere di Volterra da questo punto di vista è un modello, perché non c'è un problema di sovraffollamento dell'istituto. La popolazione carceraria è pressoché analoga al numero delle celle disponibili, ai posti letto disponibili, quindi è da questo punto di vista un unicum nel panorama degli istituti carcerari, almeno quelli che finora abbiamo potuto conoscere e visitare. Qui addirittura c'è un'esperienza particolare che è quella della cella individuale. Se si va nelle carceri un po' ovunque si trovano celle dove spesso si trovano parecchie persone letti a castello, ammassati, situazioni effettivamente precarie anche da un punto di vista della tutela della salute. Qui invece ogni detenuto ha la propria cella, più o meno piccola, però comunque uno spazio individuale. E questo è di beneficio anche alla conduzione della vita nel carcere, perché tutta una serie di possibili scontri che si possono verificare all'interno del carcere nascono proprio dalla convivenza coatta all'interno della stessa cella di più detenuti. Quindi c'è da questo punto di vista anche una conduzione della vita carceraria molto più pacifica e serena perché le occasioni di scontro tra i detenuti sono effettivamente in questo modo ridotte al minimo. Chiaramente il carcere di Volterra può permettersi questo per la sua conformazione, per la sua struttura, però è anche vero che altri istituti questa condizione di privilegio non la hanno. E quindi lo sforzo che deve essere fatto, anche proprio per garantire una corretta conduzione della quotidianità all'interno delle carceri, deve essere proprio quello di favorire per quanto possibile anche gli spazi individuali. Laddove ovviamente questo non sia possibile, l'impegno credo che debba assumersi il governo, il sistema penitenziario, è quello della creazione di sedi idonei perché questa prospettiva possa essere realizzata, perché questo è un buon modo per poter gestire la popolazione carceraria. Devo dire che appena usciti dalla casa di detenzione di Volterra le impressioni e le emozioni sono molte. Siamo di fronte a un'esperienza carceraria senz'altro singolare, di grande livello, c'è le singole, un buon clima tra detenuti e personale di sorveglianza, con delle esperienze straordinarie che sono soltanto qua, come l'esperienza della Compagnia della Fortezza e il lavoro del teatro in carcere, che si fa in tante carceri toscane, ma che qui ha una punta di eccellenza che ha avvalso al regista Armando Punzo, ideatore e promotore da 35 anni di questo bellissimo laboratorio sull'uomo, come lo chiama lui, il leone d'oro alla carriera che gli verrà consegnato a Venezia il prossimo 17 giugno. Devo dire che abbiamo queste esperienze di visita nei carceri, sono esperienze di grande umanità e anche di scoperta di che cosa è e quanto lavoro richiede a livello organizzativo, a livello anche di disponibilità emotiva del personale coinvolto. Quindi devo dire che il carcere di Volterra potrebbe tranquillamente essere un modello di detenzione con finalità trattamentali ed educative di altissimo livello. Vorremmo che fossero tutti così, non solo in Toscana ma anche in Italia. Purtroppo lo sappiamo che non è così, intanto siamo grati per questa bella esperienza che comunque ha bisogno di cura, di assistenza, di organizzazione, di logistica come tutta la dimensione carceraria anche nella nostra regione che ha queste punte di eccellenza. L'Istituto Penitenziario di Volterra è un carcere aperto alla città, dentro una città che è aperta al carcere. Tante le attività da quella teatrale che va avanti ormai da 35 anni con la Compagnia della Fortezza quella scolastica, con corsi che vanno dall'alfabetizzazione primaria all'università. Ma ci sono anche le visite guidate alla Torre del Maschio e tante possibilità professionali e lavorative offerte soprattutto all'esterno dell'Istituto grazie ad una grande collaborazione con le amministrazioni comunali. All'interno della struttura anche una biblioteca, una palestra e spazi polifunzionali dedicati alla socialità. Grazie per la visione!